L'aeroporto del Salento di Brindisi, riaperto al traffico, è pronto a ricevere, nonostante la fase emergenziale, il flusso turistico estivo. Terminata, infatti, la fase 1 dei lavori di riqualifiche a modernamento della pista RWY 1331, la più invasiva del complesso cronoprogramma degli interventi, con i lavori sin cui realizzati che rappresentano il primo step di un programma di interventi più ampio, che però non impatteranno sull'attività dello scalo nelle fasi successive. Massima soddisfazione da parte del direttore generale Marco Catamerò, Brindisino Doc, che guarda questi interventi anche in uno spirito di sinergia con l'ente portuale per favorire il traffico croceristico. I lavori sono consistiti sostanzialmente in un adeguamento dell'infrastruttura di volo, soprattutto per quanto riguarda gli impianti AVL, cioè le luci delle piste. Un aspetto che le ha accennato è quello della intermodalità con il porto. La predisposizione dello spostamento della soglia consentirà un airdraft maggiore per le navi che vorranno ormeggiare nel porto medio di Brindisi, che potranno avere un'altezza fino a 50 metri. Se tutto andrà secondo i programmi, gli scredolati saranno confermati dei voli, sarà un'estata molto interessante. Come voi avete avuto modo di verificare, abbiamo avuto anche la possibilità di presentare un volo importantissimo, che è il Brindisi, allenate da luglio, con sei cadenze a settimana. Sicuramente un volo per tutto il Salento fondamentale per arrivare nel cuore della città lombarda.